cartucce da salve fiocchi calibro 8 mm 50 pezzi libera vendita contenute nel loro apposito astuccio in materiale plastico le cartucce hanno la parte dove va a battere il percussore e la pistola come quella reale però la carica ovviamente essendo a salve e chiusa da materiale plastico che poi rimane sempre sulla cartuccia una volta esplosa il bossolo in materiale metallico il rumore perfettamente identico per un'arma vera